Amala, Forza Inter Sta felice, Raffaele? Ehi, ciao Un saluto ai tifosi, Raffaele Un saluto ai tifosi, Raffaele E va, e va, e va Sui mai questo Amala, Forza Inter In camera Dai, in camera, un Forza Inter Forza Inter Sta pronto para entrenarte? Sì Il tuo obiettivo per questa stagione? Champions con l'Inter Raffaele, ti si sente abrangonato Ah, no, ti nega Io dai Raffaele, ti si dice Forza Inter Raffaele, ti si chiu Amo Forza Inter Quattro le ti dirai Hai già scelto il numero della maglia? Cuidado, no? Il numero della maglia, l'ultimo numero della maglia Otto, otto Otto, il numero della maglia, otto